perfetto benvenuti a tutti a questo nuovo video quanto guadagna un top producer qua andiamo a resvelare tante cose quante fanta cose fanta vere e andiamo a vedere mi si vede perfetto e prima di partire chi non mi conosce sono simone rossi sono il primo stato primo agente immobiliare remax 2018 2019 2020 per fatturato prodotto e nessun segreto particolare se non ho cercato di imparare dai migliori al mondo qualcosa che non c'era ancora in italia che oggi metto a disposizione di chi ha voglia di seguirmi prima di andare avanti sotto hai la possibilità di iscriverti al canale facciamo un paio di settimane per cui abbastanza interessanti e la seconda cosa è che nella descrizione sono percorsi formativi che ho in battuta quello che c'è in essere adesso eccetera 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 ma bando alle ciance quanto guadagna un top producer ok allora sfatiamo subito il mito non cambierà tanto non cambierà tanto vi do un'indicazione innanzitutto cos'è per me un top producer un top producer è colui che fattura più di 500 mila euro dai 500.000 in su noi l'anno scorso abbiamo fatto 650.000 circa 113 transazioni con un margine operativo lordo di circa il 48 50 per cento te la traduco su tutti i soldi che di cui ti ho parlato ti rimane in tasca dai 20 ai 25 mila euro in realtà io ho anche interessi ho diversi immobili che affitto stanze eccetera che mi creano un income comunque di 10 12 comunque affitti ogni mese più o una società di formazione oggi io sono investi amministratore nella mia società di formazione che mi dà dei diritti d'immagine su ogni prodotto che lancio a mercato eccetera 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 per cui possiamo dire a cavallo dei 35 40 mila euro sì diciamo che se sei un agente normale che non ha altri business sono altri immobili quindi io ti considero un top producer dai 20 25 mila euro netti al mese in su ok la grande verità è che non cambierà tanto il tuo stile di vita ok per cui quello che ti posso dire che c'è la percezione che ci sia un'evidenza che magari ci sei tu che guadagni queste somme qui giri per strada e invece non è così perché non è così perché è vero che sono comunque dei buoni soldini è inutile dirselo ma siamo molto distanti dal poter permettersi lamborghini ferrari yacht jet privati cioè questi sono stili di vita di milionari ok non di gente che comunque sta molto bene come può essere uno che guadagna 25 30 40 50 mila euro al mese ok ma non è quella vita da milionari è chiaro che questa vita ti permette di fare degli upgrade ipotesi gli upgrade per me sono stati in questo momento negli ultimi anni potermi permettere vacanze da due o tre mila euro al giorno poter andare nei ristoranti migliori non farmi mancare nulla non guardare mai il lato destro del del menù del ristorante preoccuparmi solo di fare quello che volevo e soprattutto un tema legato alla convenienza che dopo guardiamo un pochino per cui anche per me che per me era impensabile qualche anno fa viaggiare in prima classe o in business e adesso non lo faccio più tutte le volte che posso e non che non sono obbligato evito di stare schiacciato in economy e vado lì davanti quelle non possiedere sono botte adrenaliniche ma sono botte adrenaliniche la prima volta c'è quando tu vai e ti siedi in un ristorante stellato va in prima classe va in un resort alle mative 5 stelle da 3 mila euro al giorno è chiaro che la botta la senti ma come tutte le cose dopo scendono e diventano la normalità ok allora a un certo punto mi dice ma guarda simone se dai 25 30 mila euro al mese in su non mi cambia niente ok allora perché dovrei accumulare e questa è un'ottima domanda ok il primo consiglio appunto è quello di accumulare denaro e ora ti spiego un pochino io ho fatto un altro video simili si chiama diventa ricco in 5 step lo trovi sul canale ho avuto un po di visual eccetera 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 perché questo perché la vera e il vero vantaggio di guadagnare un po di soldi è quello di raggiungere quella che può essere definita la tranquillità la sicurezza la sicurezza cosa intendo con sicurezza tranquillità eccetera significa per esempio avere un conto risparmio io consiglio a tutti ragazzi dove all'interno del conto risparmio hai un anno di stile di vita cosa significa che tu hai un anno in un conto dimenticato a lì a macerare tale per cui puoi averne accesso nel momento in cui crolla il mondo ti spacchi una gamba succede un casino salta al lavoro brucia l'ufficio tutta questa roba qui tu hai un anno di stile di vita pagato e nel momento in cui ce l'hai la tua testa è completamente rilassata che anche se succede la sfiga più sfiga del mondo continui a mangiare tre volte al giorno te e la tua famiglia ok l'altra cosa importante e che dovrebbe essere il vostro obiettivo per accumulare denaro è quello di raggiungere la libertà finanziaria cosa intendo io per libertà finanziaria qual è la scuola di pensiero che seguo cosa intendo cosa intendo la libertà di finanza finanziaria è quella cosa che ti permette di pagare la tua vita non utilizzando il capitale accumulato ma bensì interessi sul capitale ok per cui possiamo dire campare gli interessi lo dicevano spesso i miei nonni me l'avranno detto un miliardo 480 mila euro che il nirvana era campare gli interessi ed è la verità con interessi possono essere rendite dai mobili nel mio caso oppure rendite da dividendi di azioni azioni etf adesso non è una cosa tecnica ok per cui questa roba qui perché è molto importante ragazzi ve lo spiego subito perché nel momento in cui tu ti svegli alla mattina e hai la tranquillità e la sicurezza tu ti approcci al lavoro ti approcci con i clienti ti approcci al mercato che non sei legato al risultato non che non ti piaccia ma non sei legato al risultato avete presente quella sensazione quando hai di fronte qualcuno bisognoso che ha necessità di chiudere con te lo percepiamo subito e qual è l'effetto boom il contrario c'è una grande legge la legge non è una legge nel senso che sono ambientato via adesso che tanto quanto meno sei legato al risultato tanto quanto il risultato arriva e questo ragazzi è innegabile ok per cui ribadisco non cambierà tantissimo la tua vita farete la tua vita nel momento in cui ti auguro prima possibile di raggiungere quel tipo di risultato economico di top producer e avrai degli upgrade è normale fisiologico ma la cosa che ti darà la vera botta è la tranquillità la sicurezza cioè quello veramente ti rende molto più tranquillo ok l'altra cosa che vi dico invece che e non potrete comprare materialmente fisicamente la felicità ok cosa intendo con questo così così sgombro il campo io non sono contro il materialismo ok per cui sì sono qui con una camicina tra 100 euro senza orologi senza gioielli eccetera ma questa è una cosa mia cioè io ho deciso cioè il problema è quando non è che tu e magari mi compro che cavolo non so vado in un ristorante spendo 500 euro faccio un'ipotesi e ma la grande differenza è fatto di volere una cosa mentre purtroppo fuori vedo tanti che devono necessariamente ostentare far vedere eccetera perché sono sempre alla costante ricerca del qualcosa che gli renda felici questo è il problema quando non è che lo fai perché lo vuoi ma perché devi perché mantenere il ritmo cioè dopo a questo punto diventa un grande problema perché tenere il ritmo fa salire l'ansia perché sei obbligato cioè se tu vuoi fare una vita e come una star hollywoodiana devi sapere che una star hollywoodiana guadagna 40 50 milioni di dollari l'anno ok poi la maggior parte di questi hanno le pezzi al culo perché ricci c'è cosa intendo che incassano tanto ma spendono altrettanto quindi è molto importante ragazzi cercare di evitare tutta questa situazione dove ti senti obbligato di dover essere instagrammabile ogni volta e questo è molto importante ragazzi perché sennò si entra in un circolo dove non è mai abbastanza perché per quanto guadagni tanto ne dovrai spendere per mantenere il ritmo life tutto quello che ruota intorno a sta roba che è super massacrata dai social e che rende veramente un ostentazione continua ok l'ostenzione continua non ti renderà felici questa è la grande cioè se cerchi la velocità e comprandola purtroppo ti dà una brutta notizia conosco tantissima gente che continua a comprare 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 non è mai a posto deve sempre razzare il livello fino a quando si è praticamente bruciato cioè vedo della gente che ha guadagnato ereditato si è bruciato tutto infatti una cosa abbastanza interessante questo anche se non vale per sempre è il fatto che puoi essere fortunato come sono stato io che io mi sono tra virgolette passami il termine arricchito nel senso che sono partito da zero e mi erano degli impiegati normalissimi per cui so il valore di mille euro 5 mila euro 10 mila euro la cosa interessante è quella di cercare di mantenere le proporzioni mantenere proporzioni significa che per ogni x che incassi sai che una parte devi metterlo in un risparmio che ti dia la sicurezza dall'altro magari in un conto di investimento che ti generano che ti generano comunque dei redditi tali per degli interessi tali per cui sono quelli che ti aiutano a campare cioè questa è la vera cosa mantenere comunque una proporzione ok questo è un po quanto quindi la prima cosa che vi consiglio di fare è raggiungere il p il prima possibile il menefreghismo totale cioè quello che pensano gli altri mi dicevo io sono qui con sta bella camicina senza orologio eccetera non me ne frega nulla di quello che mi dicono gli altri ama tu potresti non potresti io faccio quello che credo quello che voglio quello che mi sento senza necessità di dovermi far accettato per quello che mostro ok poi ribadisco gli sfizi vanno tolti a marzo aprile non mi ricordo io ho staccato al mio broker una fattura da 105 mila euro più iva di vendite più ho staccato altri 35 40 mila euro tra corsi video corsi diritti d'immagine eccetera è chiaro che mi sono tolto uno sfizio ma non sono non ero obbligato di pubblicare ovunque ok questa è la grande differenza l'ho fatto per me non per gli altri per me nel momento in cui hai la volontà la voglia di come posso dire toglierti uno sfizio è giusto farlo ma devi sempre rientrare una sorta di matematica segnatelo questo del budget se tu hai stabilito dall'inizio per il tuo piano della libertà eccetera che ogni 10 5 vanno in un investimento due vanno in risparmio e due vanno per pagare tutto quello che c'è da pagare uno poi togliere gli sfizi se incassi 100 vuoi spenderti 10 mila euro in tre borse di louis vuitton quattro borse di louis vuitton non lo so che le spendi ma hai fatto una matematica del budget cioè sai cosa stai facendo non stai ragionando alla boia alla boia con giuda ok mentre qual è il problema ragazzi il problema che molti si bruciano molti giovani primi soldi che prendono anche non giovani si bruciano per cui se incassi io mi gioco le balle che se c'era qualcuno che gli arrivava una fattura in un mese di 130 140 mila la prima cosa faceva è spendere 80 mila 90 mila per un'auto ok qual è il grande problema che vi state bruciando il vostro futuro molto semplice vi state bruciando il vostro futuro perché questi soldi che vi escono di cassa subito se voi le mettete ok se voi le mettete una parte appunto in investimenti una parte in sicurezza e una parte nel formarvi voi ad un giuda consentendo con formarvi andare da qualcuno che ha le informazioni giuste che mi servono per migliorare ulteriormente questa gente va pagata perché non sta lì a gratis è gente che ha speso nel mio caso specifico io ho speso 200 mila euro in formazione in quattro anni cinque anni non ricordo ma perché l'ho fatto mica perché ero pazzo perché sapevo che quei 200 mila euro mi avrebbero reso due milioni di euro cosa che poi è successo quindi nel momento in cui tu invece ti bruci istantaneamente la cassa tu sposti il casello della tua libertà finanziaria 10 anni più avanti se cominci a investire giustamente per avere le informazioni investire dove vuoi immobili quello che vuoi qualcosa che ti genera rendita o formazione del tuo personale l'unico investimento certo al 100% è la tua formazione se non fai questa roba qui tu stai allungando il punto di arrivo se ti interessa insomma un giorno decidere di avere una copertura campare gli interessi eccetera 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 il per concludere un po' questo video sapete qual è la cosa in assoluto più bella almeno questo è il mio pensiero è il fatto che a un certo punto vi troverete nelle condizioni con questo schema qui di fare solo quello che vi piace e quando volete ok nel momento in cui tu fai quello che ti pare e deleghi tutto il resto per cui nel momento in cui io vi dico non mi piaceva l'amministrazione ero delegata a un assistente personale non vado in poste in banca c'è chi mi prenota al ristorante c'è chi mi prenota i viaggi voli e io non devo pensare a niente mi riassetta mi stira mi porta mi viene a prende vado in centro mi portano in auto ragazzi io non penso più a niente la cosa bella è che ti concentri solo quello su quello che ti piace e lo spirito è completamente diverso c'è voluto un po' certo c'è voluto un po' non voglio farvela troppo facile ma andare a bruciarsi quei soldi all'inizio ti sposta questo po' a tanto e quindi questa è la mia personale visione quando hai la possibilità di decidere cosa fare e comprare il tempo degli altri per fare le cose che non ti piacciono hai raggiunto la felicità assoluta ciao ragazzi al prossimo video